carissimi amici benvenuti anche quest'oggi in questo brevissimo tutorial vi mostrerò come soprattutto chi non sa non ha le basi per poter disegnare potesse cominciare a farlo soprattutto divertendosi ecco senza tante complicazioni e via il video è molto adatto per i piccoli ma soprattutto anche per gli adulti che volessero diciamo iniziare a disegnare senza tanti problemi ripeto divertendosi allora ho preso un cartoncino vi consiglio del cartoncino d'acquarello di acquarello 300 grammi e niente lo fisso sul tavolo in modo che non si sposti può bastare l'importante è capire cosa sto facendo che cosa dovrete fare cercando di copiare allora innanzitutto bagno il foglio con un pennello il pennello è abbastanza grande impregnato di acqua estendo l'acqua su tutto il foglio non dovreste utilizzare carta tipo gli a4 da fotocopia ecco quelli non va bene perché è carta molto leggera e non si riesce a pennellare con l'acqua datemi un attimo di tempo e capirete cosa sto facendo ecco una volta impregnato di acqua il foglio ben benino inizio a dare dei colori inizio a dare dei colori ecco basiamoci sui colori primari giallo rosso e il blu ancora per sicurezza ribagno il foglio benissimo così la risposta sarà quella che voglio il colore quando stenderò il colore e inizio a dare del colore a caso parto con questo rosso e lo stendo a caso ecco qui poi prendo il giallo e anche se lo stendo a caso senza pensarci troppo è liberi da tutto quindi prendo il blu che sporcandolo è diventato quest'altro colore e infine metto il blu puro senza intaccarlo con altri colori così abbiamo i tre colori primari ecco il blu qualche schizzetto e via bene adesso dobbiamo pazientare un attimo perché bisogna che il colore asciughi ci risentiamo tra un attimo bene rieccoci qui mi ha asciugato il foglio come vedete ho utilizzato un cartoncino dove avevo già disegnato precedentemente altre cose per non buttarlo via l'utilizzo per questo tutorial ecco allora dunque dicevo una volta asciugato questo è l'aspetto come potete vedere io ho usato tre colori principali che sono il blu il giallo e il rosso i colori i cosiddetti primari attraverso questi tre colori ad esempio col blu il giallo è saltato fuori il verde grigiato un pochetto e con il giallo e il blu appena 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 cioè scusate col giallo e il rosso è saltata fuori questa tonalità predominante di arancio di arancione bene iniziamo a disegnare prendo una birra e inizio a dare sfogo sfoggio alla mia fantasia cioè quello che la mia mente vede senza ragionarci troppo io posso vedere qui ad esempio dei petali di fiore ecco un fiore con lo stelo poi posso vedere un garofano ecco posso vedere quello che non riesco ancora a vedere comunque invento ecco utilizzando molto appunto la fantasia disegno mi lascio andare all'istinto e vedo cosa salta fuori improvvisando come si fa nella musica jazz giro il foglio per poter avere maggiore opportunità di vedere cose che non vedevo prima e qui infatti vedo una vela di una barca col suo riflesso giro ancora vediamo che sorpresine saltano fuori anche forme non obbligatoriamente con un senso compiuto ecco altri fiori che poi con sempre di fantasia posso andare a unire in una composizione delle foglie come vedete si può fare ci si può sbizzarrire soprattutto divertendosi ecco giro ancora vediamo un po' in obliquo cosa mi riserva cosa potrei fare si qui vedo un albero una conifera con altri alberi davanti una collina ecco non so se riuscite a vederla penso di si ecco posso vederci un coniglio buffo per darvi l'idea ok posso trasformare il fiore benissimo in un cubazzetto e via bene io ho usato solo tre colori quindi la tonalità è emersa questa qui sull'arancione ecco la predominante ma voi potete utilizzare tutto quello che volete che vi piace più colori mettete più possibilità di vedere cose come le nuvole come il giochetto delle nuvole quando fissate le nuvole in cielo e vedete create delle vostre forme poi continuando a pasticciare salta fuori in pratica un disegno non di senso compiuto ma a noi serve per imparare a prendere dimestichezza con la matita con la biro ecco ecco qui ecco qui ecco qui ecco che quello che normalmente non si vedrebbe sviluppando questo tipo di esercizio prima di salutarvi vi invito a visionare i video precedenti che sono pochi ancora, ho appena aperto il canale da pochissimo tempo saranno una decina tra tutorial e i miei disegni iscrivetevi mi raccomando così rimarrete aggiornati immediatamente sulle mie pubblicazioni e mettete e ponetevi piace ai video che vi sono appunto piaciuti ci vediamo tutti alla prossima mi raccomando il vostro like ciao iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti